Uno verticale, persona che raccoglie informazioni in caso di omicidio. Giornalista. Poliziotto. Sacramento che decreta l'unione tra due persone. Matrimonio. Estrema unzione. Scusi, lei chi è? Ispettore capo Francesco De Mir. Sono sicuro che ci vedremo presto. Vieni a farti il bagno, Miss Italia? Viola! Mi chiamo Viola! Comunque su una cosa c'è ragione. Ci vediamo presto con Viola come il mare. Buon'estate.